8 anni di reclusione e questa la condanna chiesta dal PM Angela Masiello per il 30enne magrebino accusato di spaccio e di morte in conseguenza di altro reato nel corso del processo per la morte di Sara, la 19enne di Sansepolcro ritrovata senza vita all'interno di una villetta di cesa. Il giudice Fabio Lombardo ha rinviato l'udienza al prossimo 24 luglio per ascoltare nuovamente i consulenti incaricati per l'autopsia con lo scopo di chiarire se a causare la morte della ragazza fu l'eroina portata dall'imputato, la cocaina invece portata da un altro magrebino, il mix e due stupefacenti ed infine in che modo fu determinante l'alcol. L'imputato in aula ha dato la sua versione con dichiarazioni spontanee, i familiari della ragazza si sono costituiti parte civile ed hanno chiesto un risarcimento di 4 milioni. Il 30enne era finito in carcere nel dicembre 2017, aveva trascorso con Sara le ultime ore all'interno della villetta in Valdichiana, assieme a loro anche un altro amico del quale gli inquirenti ancora stanno cercando le tracce. La ragazza fu ritrovata senza vita, riversa sul letto l'11 marzo 2017 in tarda mattinata dalla proprietaria dell'appartamento. Nella stanza furono ritrovate anche alcune siringhe, era arrivata Livio giorni prima assieme ai due magrebini a stroncarlo un mix fatale di alcol e sostanze stupefacenti. La ragazza abitava Sansepolcro da tempo, stava tentando di uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Qualche giorno prima della morte era scappata da una struttura di recupero di città di Castello.